ciao buonasera a tutti voi io con questo video volevo salutarvi prima di tutto ma volevo anche comunicarvi che finalmente il brano vincitore del contest scrivi con noi la tua prossima kit insomma uscirà a breve segnatevi questa data la data di uscita ufficiale in streaming e su tutti i portali digitali quindi sarà acquistabile questo brano ma sarà anche ascoltabile per l'appunto in streaming sulle varie piattaforme spotify apple music itunes chi più ne metta la data è il 6 di marzo magari fate il pre save così potete potrete ascoltarla subito non appena uscirà la canzone secondo me è una bomba io giorgio ci abbiamo lavorato veramente moltissimo è un qualcosa se vogliamo tra le produzioni che ho avuto il piacere di seguire in questo caso con con giorgio quindi una coproduzione un po diversa sicuramente diversa dalle altre e questo mi rende molto entusiasta ed orgoglioso di quello che abbiamo fatto spero piaccia anche a voi spero piacerà anche a voi e quindi congratulazioni a monroe e tutto questo inoltre è stato possibile anche grazie alla preziosa collaborazione di zara edizioni musicali quindi mando anche un saluto a tutti gli amici della della zara insomma il team c'è insomma il brano c'è e ora tocca a voi spero che questa canzone insomma video la carica giusta per continuare alla grande intanto vi saluto e a presto ciao